Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il villaggio Le Mimose di Porto Sant'Elpidio ha ospitato un incontro con l'assessore Stefano Aguzzi per la difesa del suolo e della costa, in una zona in cui l'erosione è un annoso problema da tantissimi anni, problema già affrontato dopo pochi giorni dall'insediamento. Io sono stato qui a Porto Sant'Elpidio e nella vicina a Porto Recanati, proprio i primi giorni del mio insediamento, era credo inizio novembre, proprio su richiesta della consigliera regionale Jessica Marcozzi che vive in questo territorio, proprio forte di questa presa a visione. Mi sono premurato di inserire nel bilancio di previsione intanto alcune cifre, diciamo meno consistenti, 200 mila euro ad esempio qui per Porto Sant'Elpidio, per il resto mi sono premurato di verificare lo stato di avanzamento invece di un progetto molto più ampio per 4 milioni e mezzo di euro che era stato iniziato già dallo scorso anno anche dalla precedenza amministrazione regionale che oggi però vede finalmente la luce perché è stato redatto quello preliminare, abbiamo già reincaricato per il progetto definitivo in previsione della gara d'appalto e proprio forte di questo ci siamo premurati di reinserire l'intera cifra tra l'annualità 2021 e 2022, io perlomeno fare di tutto perché venga rispettata una tempestica di questo genere, entro il 2022 lavori in corso. L'intervento che si metterà in atto oltre quello di sommorgenza per i 200 mila euro stanziati a cui sta provvedendo il comune di Porto Sant'Elpidio è in continuità rispetto al progetto del governo regionale precedente e prevede un innalzamento delle scogliere soffolte a creare due chilometri e mezzo di barriera al mare. Proprio prendendo visione di questo progetto si ricalcherà di fatto l'attuale posizionamento delle attuali scogliere soffolte cioè quelle sotto pelo d'acqua che sono già esistenti qui a Porto Sant'Elpidio che in una prima parte appena realizzate hanno dato un beneficio poi a poco a poco si sono un po' sprofondate come si suol dire, allentate e di conseguenza oggi non producono più buoni effetti. Daniele Gatti direttore del villaggio Holiday e presidente di Villaggi Marche vede in questa risoluzione di 4 milioni e mezzo di euro una prospettiva importante per la costa elpidiense. Finalmente abbiamo un cronoprogramma supportato anche da un programma economico di investimenti per la protezione di costa e soprattutto per una programmaticità nei prossimi interventi che dovremo anche monitorare adesso con i prossimi tavoli di concertazione regionale sulle politiche turistiche territoriali. Il problema è proprio quello degli investimenti, investimenti fatti in un periodo in cui le certezze sono ancora poche e soprattutto gli scenari sono ancora tinte fosche. Un caute ottimismo sicuramente è nelle prontazioni, le richieste che stanno arrivando e che quindi consentono anche agli imprenditori di continuare nei loro investimenti di riqualificazione delle strutture.